Musica Evito Leccesa sbrogliare la matassa della giunta comunale di Bari revocate le deleghe di Raffaele Diomede entrato in quota al Movimento 5 Stelle ma non riconosciuto dal gruppo consigliare nessun rimpasto esecutivo che resta con 9 assessori si tratta del secondo passo indietro in una settimana uno alla periferia di Bari all'Oseto gli altri due nel sud-est dell'Interland barese ancora un incidente nel Brindisino tanti e tristi sinistri stradali anche mortali nelle ultime ore in Puglia al via la festa di Santo Ronzo a Lecce tradizione ed emozione una città invasa dai turisti la diretta di Antena Sud Sabato 24 agosto ben ritrovati e benvenuti a questa edizione interregionale del nostro Tg in apertura ci occupiamo di politica è stato direttamente Vito Leccese a sbrogliare la matassa della giunta comunale di Bari dopo ore di tensioni politiche anche a prensione revocate le deleghe di Raffaele Diomede è entrato in quota al Movimento 5 Stelle ci racconta tutto Antonio Bucci è Vito Leccese a sbrogliare la matassa della giunta comunale di Bari è il sindaco a revocare le deleghe nelle mani di Raffaele Diomede tecnico indicato dal Movimento 5 Stelle ma non riconosciuto dal gruppo consigliare di riferimento tanto da portare i due consiglieri ad annunciare l'appoggio esterno all'amministrazione due giorni di braccio di ferro e riunioni da una parte il coordinatore provinciale Remondo Innamorato che aveva indicato Diomede dall'altra Antonello delle Fontane e Italo Carelli che avevano accusato il primo di aver messo in atto una prova di forza in spregio della base del risultato elettorale nelle scorse ore era stato Diomede a rimettere il mandato nelle mani del Movimento ma di fumata nera in fumata nera la questione era finita in stallo il tempo è scaduto ho il dovere di mettere fine a questa situazione di incertezza politica spiega Leccese in un comunicato ufficiale lo stesso con il quale chiarisce che non ci saranno rimpasti all'orizzonte né un rimescolamento di deleghe né l'indicazione di un secondo nome condiviso dal Movimento la Giunta insomma resta tale e quale e lavorerà con 9 assessori anziché 10 come nella formazione iniziale l'antimafia è una cosa seria commenta Diomede ringraziando chi lo aveva sostenuto gli uomini di Conte intanto lavorano a una soluzione interna spiegano che al momento non si intravede resta il nodo politico si tratta del secondo assessore costretto al passo indietro in sei giorni dopo Carlotta Nonnis Marzano delegata all'ambiente poi travolta dalle polemiche sui post social su Pontefice e G7 Ed ora la cronaca è stata sicuramente un'estate terribile sul piano degli incidenti stradali in Puglia nelle ultime ore ancora sangue sulle arterie pugliesi diversi incidenti sono verificati in particolare nel barese alcuni mortali Domenico Brandonesio Comincia male il weekend sulle strade baresi tanti gli incidenti che nelle scorse ore hanno riguardato da vicino il territorio uno di questi si è verificato a Bari più precisamente nella periferia del capoluogo regionale nella tarda serata di venerdì 23 agosto tra le 23 e le 23.30 alle porte del quartiere Lo Seto lungo viale Trisorio Liuzzi si è infatti verificato un incidente mortale che ha coinvolto una moto ed un'auto come si vede dalle immagini ad avere la peggio il conducente del primo mezzo un 36enne che sarebbe morto sul colpo feriti invece i due passeggeri a bordo dell'altra vettura diverse le pattuglie della polizia locale di Bari impegnate sul posto che hanno poi eseguito tutti gli accertamenti del caso inevitabili i rallentamenti alla circolazione stradale come detto però non è stato l'unico triste episodio nel pomeriggio sulla Turri Casamassima un 32enne ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con il trattore un altro sinistro mortale si è infine verificato tra Cozze e Conversano dove ha perso la vita un altro uomo in moto tra poco torneremo a parlare di incidenti stradali perché un altro incidente piuttosto grave si è verificato invece nel Brindisino pochi minuti fa il nostro Michele Urlaro sta chiudendo il servizio che vi proporremo tra poco continuiamo con la cronaca una festa di compleanno è finita in tragedia nel Tarantino a Faggiano in particolare un ragazzo è stato accoltellato poco dopo il Brindisi sentiamo cosa è accaduto deve rispondere di tentato omicidio un ventenne di Palagiano accusato di aver accoltellato un 19enne reo di aver scongiurato una rissa scaturita tra due giovani a causa di un bicchiere di spumante riversato su uno di loro durante una festa di compleanno il fatto è avvenuto a Faggiano nel Tarantino nella centralissima piazza Vittorio Veneto secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto il presunto autore del tentato omicidio avrebbe agito a seguito di una banalissima lite un gruppo di giovani il Brindisi per il compleanno un ragazzo bagna l'amico scoppia il caos una terza persona si mette in mezzo per placare gli animi e viene accoltellata con nove fendenti alla schiena il 19enne è stato trasportato immediatamente presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto e fortunatamente non è in pericolo di vita i carabinieri in poco tempo hanno rintracciato il presunto autore dell'accoltellamento che nel frattempo si era allontanato increduli i presenti sinceramente non ne stavamo parlando perché capiva cosa no c'era la battaglia dei riccioli c'era la azione dei riccioli sì, ieri sera c'erano riccioli però a qualche parte il ragazzo sta un po' ripetito lo sovrebbero però purtroppo accade c'è sgomento in città la successiva ed accurata perquisizione personale domiciliare ha consentito di rinvenire il coltello su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Taranto in attesa di giudizio di convalida restiamo in argomento perché se c'è un'emergenza della quale si dibatte in tutta Italia nelle ultime settimane è quella relativa proprio alla violenza come abbiamo visto in questi casi tra giovani talvolta giovanissimi un fenomeno in crescita anche a Vieste nel Foggiano un fenomeno che preoccupa anche le istituzioni nelle scorse ore un nuovo avvenimento ha visto coinvolti una decina di ragazzini in un video che poi è ripresi dal cellulare il video poi è diventato virale sentiamo Antonella Davola giovanissimi ancora una volta protagonisti di una violenta rissa avvenuta nel cuore della città di Vieste nel Foggiano una decina di ragazzi e ragazze si sono affrontati con calci, pugni e lanci di sedie lungo il corso fazzini della cittadina garganica tra lo sgomento dei passanti e le urla di chi implorava di smetterla a quanto si apprende al termine della lite nessuno di loro si è recato presso strutture sanitarie per ricevere medicazioni sul caso indagano le forze di polizia per ricostruire quanto accaduto e identificare i giovani coinvolti è imperativo che vengano implementati maggiori controlli e che si instauri un dialogo costruttivo con i giovani commenta il primo cittadino Giuseppe Nobiletti risale solo a un paio di settimane fa il caso del ragazzino di 12 anni schiaffeggiato e costretto ad inginocchiarsi da alcuni coetanei questi atti violenti ha aggiunto il sindaco non sono soltanto inaccettabili ma minacciano anche la tranquillità a Vieste è fondamentale che la comunità si unisca per condannare tali comportamenti e per promuovere un ambiente di rispetto e solidarietà chiediamo con urgenza chiosa Nobiletti il potenziamento delle misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine Vincenzo Stranieri ex boss della Sacra Corona Unita torna in carcere per inosservanza degli obblighi Marzia Baldari L'ex boss della Sacra Corona Unita Vincenzo Stranieri 64 anni conosciuto come Stellina per la Stella a 5 punte tatuata sulla fronte è stato arrestato dai carabinieri di Porto Cesario sorpreso alla guida di un'autovettura coinvolta in un incidente stradale il manduriano pare stesse guidando senza patente perché revocatagli senza documenti e con il numero di telaio cancellato i militari inoltre avrebbero trovato nell'utilitaria anche un coltello a serramani con piede di porco l'ex boss dovrà rispondere ora di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale riciclaggio e possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere l'indagato difeso dai due avvocati Lorenzo Bullo e Michele Iaia durante l'udienza di convalida dell'arresto ha risposto alle domande del GIP del Tribunale di Lecce raccontando di essere diretto a Torre Colimena Marina di Manduria per un appuntamento di aver perso l'orientamento a causa delle medicine che assume quotidianamente durante il percorso stranieri è stato coinvolto in un incidente stradale il GIP non convinto dal racconto ha emesso il verdetto di convalida della custodia cautelare in carcere con vigilanza psichiatrica Stellina è uscito dalla galera due anni e mezzo fa dopo quasi 40 anni di carcere duro alcuni dei quali il regime 41 bis è stato uno dei fondatori della quarta mafia pugliese un incredibile episodio si è verificato nel Leccese un bambino di 5 anni di origine africane che è stato dato dal tribunale di Lecce in preaffido ad una coppia di genitori salentini è stato sottratto dalla madre naturale nelle scorse ore durante il colloquio settimanale fissato in una comunità educativa per minori della provincia di Lecce Francesco Schiavano la procura di Lecce ha attivato il protocollo codice rosso in seguito alla scomparsa di un bimbo di 5 anni originario della costa d'avorio che è stato portato via dalla madre da una comunità educativa per minori nella quale si trovava per il consueto incontro settimanale con il genitore l'episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio di giovedì 22 agosto intorno alle 15.30 la donna di 40 anni si sarebbe presentata presso il centro di Galatina per passare un po' di tempo con il piccolo quest'ultimo infatti da qualche mese ha avviato un percorso di affidamento in una nuova famiglia individuata dalla procura per i minori dopo che i giudici hanno tolto la potestà genitoriale alla madre biologica da quanto si apprende il bimbo prima dell'incontro appena visto la mamma si sarebbe staccato dall'assistente sociale andandole incontro per abbracciarla la donna a questo punto lo avrebbe preso in braccio e insieme sarebbero saliti in macchina allontanandosi mentre l'assistente sociale tentava in vano di fermarli immediatamente i responsabili del centro si sono recati presso il comando stazione dei carabinieri di Galatina per sporgere denuncia in seguito alla quale si sono immediatamente attivate le ricerche l'allert è stato diramato a tutte le forze di polizia del territorio nazionale ed europeo a coordinare le indagini il sostituto procuratore Alberto Santa Catterina e la collega Maria Grazia Anastasia stando a quanto è dato sapere l'auto utilizzata dalla donna è stata presa in noleggio e non si esclude che la quarantenne avesse pianificato la sottrazione del minore da tempo dai primi accertamenti tecnici il suo telefono risulta agganciato ad una cella che copre la zona di campagna tra Gallipoli Alezio e San Nicola non è ancora chiaro però se il cellulare sia stato abbandonato nella zona oppure se la donna con il suo bambino si trovino in quell'area grande commozione partecipazione nella cattedrale di Bitonto in occasione dei funerali di Vito Procacci il 65enne primario del pronto soccorso del policlinico di Bari tragicamente scomparso nelle acque di Gallipoli due sere fa dopo essere stato occolto da un malore hai segnato con professionalità la tua vita il tuo viaggio continua su un'altra corsia d'amore perché la tua generosità non può finire qui con queste parole di Don Gaetano Coviello nel corso del suo funerale è stato ricordato e salutato Vito Procacci medico 65enne direttore del pronto soccorso del policlinico di Bari fatale sarebbe stato un malore avvenuto in acqua dopo un bagno nelle acque antistanti la spiaggia della pulità Gallipoli tantissima la gente che si è recata in cattedrale a Bitonto amici, parenti, colleghi conoscenti e tutti coloro che in qualche modo si sentono legati alla sua personalità la sua enorme attività di lavoro durante l'emergenza Covid in unità operativa non è passata inosservata perché si è speso anche oltre l'ordinario per salvare vite uno sforzo che gli sarebbe inizialmente costato 21 mila euro di multa provvedimento poi sospeso con tanto di scuse da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un vero e proprio simbolo della sanità pugliese che avrà un importante riconoscimento abbiamo pensato insieme al Presidente Emiliano di titolare il reparto del pronto soccorso a Vito credo che questo sia quello che è giusto fare tutta la sua equipe lo vuole noi lo vogliamo e quindi lo faremo come atto di ringraziamento a Vito e anche come momento per lasciare la sua memoria ai successivi medici che si alterneranno in quella struttura perché lui ci teneva tantissimo alla formazione dei giovani a Brinsi tiene banco la polemica interna al comando dei vigili del fuoco con la rottura totale tra il comandante e le organizzazioni sindacali questa mattina manifestazione per chiedere rinforzi sul piano dell'organico e una rivisitazione dei turni Anna Saponaro abbiamo una gestione di questo comando mai avuta fino adesso io sono il più anziano dei vigili del fuoco di Brindisi sono rimasto il più anziano e non ho mai visto una gestione così frammentaria da parte della dirigenza se al sottodimensionamento piaga nazionale si aggiunge una gestione ritenuta frammentaria specificità tutta locale è presto tracciato il quadro dello stato di salute del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi che ha protestato con un'adesione pari al 94% per far sapere ai cittadini qual è la situazione una sede di servizio in sofferenza con la coperta sempre corta talmente corta da rendere difficile se non impossibile la contemporanea gestione di due emergenze in risposta al comandante di Brindisi è molto semplice lui non può mettere i vigili del fuoco nella condizione di dover scegliere quando si fa soccorso il soccorso deve essere garantito per tutti invece quando non si hanno gli uomini il problema è che un vigile deve scegliere e decidere a chi fare soccorso se dover andare dove c'è un incendio appartamento oppure dover andare dove c'è un incidente stradale questo è il vero problema la responsabilità non è la nostra è lui che gestisce è lui che è responsabile civile e penale del soccorso noi facciamo solo soccorso questo comandante questo comandante si è contraddistinto per essere il comandante dell'apparire e non dell'essere e quindi è chiaro che su queste cose chi ha pagato il prezzo maggiore e questo quello che deve sapere la cittadinanza sono stati in primis i cittadini di Brindisi e poi tutti gli operatori vigili del fuoco i finanzieri del comando provinciale di Lecce hanno intensificato l'attività di contrasto dell'economia sommersa anche in materia di servizi di navette e di taxi non autorizzati sentiamo dovrebbe essere pronto il servizio rispetto a questa operazione che è stata effettuata a Lecce da tempo c'erano infatti ne abbiamo parlato anche in passato delle lamentele da parte dei tassisti regolarmente autorizzati rispetto a qualcuno che evidentemente faceva il furbo vediamo sono 17 i soggetti individuati e sanzionati dai finanzieri del comando provinciale di Lecce per esercizio abusivo di noleggio con conducente i controlli si inseriscono all'interno di una più complessa attività a contrasto dell'economia sommersa anche in materia di servizi di navette di taxi non autorizzati lungo tutto il tratto costiero salentino portata avanti dalle fiamme gialle della compagnia di Gallipoli e delle tenenze di Tricase Casarano e Porto Cesario che ha permesso di individuare e sottoporre a controllo circa 100 veicoli adibiti al trasporto di persone per stabilire l'esatta natura del servizio reso dai conducenti controllati i militari hanno raccolto le dichiarazioni dei turisti trasportati a bordo si tratta in prevalenza di soggetti sconosciuti al fisco che esercitano l'attività in assenza di qualsivoglia autorizzazione sono in corso parallelamente approfondimenti fiscali finalizzati alla ricostruzione del volume di affari delle società abusive per procedere alla tassazione dei proventi conseguiti i primi riscontri anche mediante l'acquisizione di dati extracontabili hanno consentito di constatare e di segnalare ai competenti uffici finanziari elementi positivi di reddito non dichiarati pari a 270 mila euro adesso cambiamo argomento l'Enac approva l'accordo di programma all'aeroporto di Grottalia andrà il 23% degli oltre 218 milioni destinati per gli aeroporti pugliesi Valentina Fanigliulo all'aeroporto Marcello Arlotta di Grottalia andrà il 23% degli oltre 218 milioni di euro destinati agli aeroporti pugliesi grazie all'approvazione da parte di Enac del contratto di programma di aeroporti di Puglia valido per il periodo 2024-2027 la rete aeroportuale migliorerà le proprie performance gli investimenti infatti serviranno per avviare una serie di interventi finalizzati al miglioramento della capacità aeroportuale degli scali al miglioramento dei servizi destinati ai passeggeri all'inalzamento del livello di sicurezza e alla qualità dei servizi alla tutela ambientale piena soddisfazione quanto ha dichiarato il presidente di aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile per l'approvazione del contratto di programma da parte dell'Enac si tratta di un traguardo che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni da tutta la struttura di aeroporti di Puglia e dalla struttura regionale questo contratto dice sancisce non solo la continuità degli investimenti destinati allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali ma anche l'impegno verso l'innovazione e la sostenibilità l'approvazione permette dunque di potenziare ulteriormente i servizi offerti dai passeggeri prosegue Vasile migliorando l'efficienza operativa rafforzando la competitività degli Scali Pugliesi con uno sguardo sempre attento alle nuove sfide del trasporto suborbitale nel quale lo spazio porto di Grottaglia è destinato a svolgere un ruolo fondamentale cade letteralmente a pezzi la cavalcavia dei Gasperi di Brindisi una delle arterie più importanti della città sul piano stradale quello che collega Viale Aldomoro con il cuore di Brindisi ce ne siamo occupati tante volte in passato l'amministrazione comunale la vecchia amministrazione comunale era corsa ai ripari vietando il transito dei mezzi pesanti autobus compresi ma adesso la situazione sembra stia peggiorando e cresce anche la preoccupazione tra i cittadini parliamoci chiaramente quelle crepe quei segni così evidenti di usura e invecchiamento fanno paura il cavalcavia dei Gasperi a Brindisi versa ancora in pessime condizioni nonostante da almeno tre anni da più parti siano stati lanciati diversi SOS nei giorni scorsi si sono sgretolate letteralmente altre parti del ponte più famoso e importante della città si tratta infatti della strada che collega Viale Aldomoro con il centro lo scorso febbraio il comune di Brindisi aveva disposto un'indagine per valutare la sicurezza del cavalcavia per poi stabilire dove intervenire per la manutenzione non solo proprio per paura di possibili cedimenti il traffico sul ponte era stato riorganizzato vietando il transito di mezzi pesanti autobus compresi da allora però non si è saputo più nulla e la situazione oggi è questa le immagini parlano chiaro questa struttura ha bisogno di urgente manutenzione a preoccupare principalmente oltre l'usura sono le infiltrazioni di acqua ben visibili dalle crepe durante le giornate di pioggia questo cavalcavia va ricordato era stato indicato tra le opere a cui prestare attenzione nel censimento fatto a livello nazionale effettuato dopo la caduta del ponte Morandi di Genova ora si attendono risposte o quantomeno rassicurazioni a foggia è giallo per la misteriosa scomparsa di un cane di grossa taglia di nome Kim i suoi padroni lo avevano lasciato in una pensione per qualche giorno ma dal 12 agosto scorso non hanno più notizie del loro amico quattro zampe ancora ad oggi non c'è stata nessuna apparizione di questo cane parliamo di apparizione perché sembra veramente un cane fantasma il suo nome è Kim la sua storia sta facendo il giro d'Italia di questo splendido cagnolone si sono perse completamente le tracce lo scorso 12 agosto i suoi proprietari originari di Lucera lo avevano lasciato in custodia per qualche giorno presso una pensione per animali a Foggia in zona Casermette ma il giorno stesso del ritiro sono stati informati con una telefonata dai responsabili della struttura della fuga del cane da un cancello lasciato incautamente aperto versione che non ha convinto i proprietari quali hanno deciso di sporgere denuncia a raccontarci la storia di Kim la presidente dell'associazione Guerrieri con la Coda impegnata come tanti altri nelle ricerche tutt'ora in corso chiunque lo veda è pregato di chiamare o noi dell'associazione Guerrieri con la Coda oppure direttamente ai numeri che ci sono su tutti i post che stanno girando in tutta Italia perché diciamo che Kim è diventato un po' il figlio di tutti perché è un cane così bello così mastodontico così umanizzato è impossibile che non si ritrovi noi non vogliamo pensare al peggio perché siamo sempre molto positivi in queste situazioni però purtroppo la realtà dei fatti non ci fa pensare assolutamente in positivo questa sera davanti al Pronao della Villa ci sarà una fiaccolata per Kim per non far spegnere i riflettori e la luce su Kim e su tanti cani che non siamo più riusciti a trovare quindi noi vi aspettiamo in tanti e veramente vorrei dire grazie alle forze dell'ordine in particolar modo al Maggiore Marco Vivaldi grande animalista che ci sta mettendo veramente il cuore per ritrovare il nostro piccolo grande Kim ora torniamo a parlare delle polemiche sulla darsena di San Cataldo di Lecce Maria Teresa Carrozzo consigliere in questi giorni nonostante la festa continua ad essere a tenere banco con la polemica inerente e la mancata consegna alla città della darsena di San Cataldo si è realizzata tanta l'aspettativa promettendo ai cittadini di riavere la darsena anche perché si doveva fare la processione di San Toronso al Mare il primo anno non è stato possibile e l'assessore Scorrano e l'assessore Giordano Anguilla hanno un po' puntato il dito verso anche una forma di sabotaggio gli uffici di Bari hanno rallentato la pratica non penso che gli uffici di Bari abbiano rallentato da pratica anche perché gli uffici di Bari dipendono dal Ministero delle Finanze dal Ministero dal MIT che sono appunto i ministeri che dipendono dal governo di centrodestra ma non è sicuramente il governo di centrodestra ad accelerare o a mettere ostacoli sarebbe stupido pensare questo assolutamente così come non può essere Bari quindi quando si parla di Bari penso intendo una regione suppongo io penserei piuttosto appunto a lavorare cosa che so che stanno facendo per raggiungere l'obiettivo quanto prima e così come abbiamo detto in precedenza noi saremo al fianco di qualsiasi amministrazione che voglia fare il bene della città l'obiettivo è restituire la Dazia alle Cesi e spero riusciranno a farlo quanto prima non è stato il 27 sarà il 28 29 30 poco importa sicuramente lo si potrà fare per un lavoro fatto in precedenza lei crede che un po' di polemiche siano gonfiate in modo strumentale anche in vista della prossima campagna elettorale regionale ovviamente guardi non so è probabile spero che non sia così suppongo che ci sia anche la voglia di fare la voglia di dimostrare quanto si è bravi io so che gli assessori sono sicuramente hanno il mio rispetto personale perché sono persone sicuramente che faranno tanto spero che facciano anche bene noi saremo lì a controllare e a proporre così come abbiamo sempre fatto per la campagna regionale c'è tempo io direi cominciamo con calma ovviamente torneremo a parlare della festa di Santo Ronzo anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali come avrete potuto notare questa mattina abbiamo trasmesso anche una lunga diretta in occasione dei festeggiamenti dell'avvio dei festeggiamenti che tra l'altro hanno coinvolto anche tanti turisti adesso ci spostiamo nel Brindisino la CGL scende di nuovo in piazza San Vito dei Normanni per protestare contro l'ampliamento della discarica di Contrada Formica Michele Iurlaro il inquinamento delle acque di falda quindi significa che è una cosa una cosa gravissima e stiamo già il no alla discarica di Contrada Formica si trasforma si trasforma appunto si amplia diventa un no alle discariche senza appello non bastano le immagini reali eppure incomplete di un sito patinato e tirato a lucido sopra sembra un resort sotto ci sono tonnellate di rifiuti e non bastano neppure le rassicurazioni green della proprietà la CGL insiste nella sua campagna e ancora una volta scende in piazza a San Vito dei Normanni per protestare contro l'ampliamento e più in generale contro un concetto che ritengono obsoleto intanto noi non andiamo a trovare nessuno esistono i tavoli istituzionali dove si convocano le parti sociali e si affrontano il problema ma in definitiva per noi c'è un problema proprio di come dire di gestione dei rifiuti noi siamo non crediamo che la soluzione sia l'ampliamento della discarica una discarica e lo vorrei precisare dove già lì c'è un inquinamento delle acque di falda e quindi andrebbe bonificata e poi mi sembra una questione veramente anacronistica lì andranno a conferire tutti i rifiuti della regione secondo me anche di fuori regione anche se loro asseriscono che non sarà così ma comunque noi immaginiamo che il ciclo dei rifiuti debba avere un altro tipo di gestione in piazza c'era anche il consigliere comunale di Brindisi Roberto Quarta in piazza pure la sindaca Silvana Enrico poche ore prima in sopralluogo a sorpresa presso la stessa discarica anche lei allarga la discussione al territorio slegandosi dai confini dello specifico sito la settimana prossima vogliamo diciamo convocheremo un tavolo insieme agli altri comuni viciniori quindi San Vito Meisagne Carovigno e Brindisi per capire bene che fare di questo territorio è una situazione veramente al limite diciamo del rischio non solo ripeto Perù per Formica di cui ci stiamo occupando questa sera ma anche per quelle discariche pubbliche per le quali vorrei capire che cosa vogliamo fare ed è tutto per quanto riguarda questa edizione interregionale del nostro OTG adesso iniziano le edizioni provinciali Bari Bat Foggia poi Taranto Brindisi e Lecce grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi di informazione Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia